Chi è? Ciao! Ciao! Siete qui? Non siamo a niente. Ma come sono a niente? Ma come sono a niente? Siamo dall'albinaria! Sì! Non sono cattolica. Permesso evo intanto Venite venite Che so Piaggio Che bello La cultura La vita è uscita 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 Madonna ma che è oggi? Sì! 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 Ma niente! Non c'aveva niente che fare! Sì! Insomma siamo qui Per consegnarmi Questa cassaforte di Enor Sì! Grazie! Grazie! Oh Giovan sta calma eh! Sta calma Giovan! Da parte di tutti noi Che però non dovete aprire Fino al giorno del matrimonio Grazie! Volebbe gola a tanti A tanti Chi lo sa che faccia Chissà chi è Tutti sanno che si chiama Lutern Era qui un momento fa Chissà dove Dappertutto hanno visto Lutern Ogni porta si aprirà Chissà Ogni porta si aprirà Se la carezza evita Sto fremando qui dentro di me Chi lo sa Sto fremando qui dentro di me Se gioielli e denari e tesori Chi non ho a Lutern Il mio cuore darà A Ho deciso di concedermi a te Il cambio di un pegno d'amore Io il pegno d'amore se lo fa te lo do subito eh! Non lo fai la sporcazione Lupè Mio caro Lupè Ruba quella cassaforte per me Per favore Preferisco te la cassaforte Vabbè Per te riunirò la panda E ruberò quella cassaforte E dopo però voglio il tuo pegno d'amore Salute tatou Sì Avanti Gammon Jiken Venite qua Ciao Lupè C'è da fare un colpo? Come sempre è la mia spiata Lupè Ma dimmi Chi ha commissionato il colpo? Margò Quella dannata donna Ci farà cadere tutte le griffie di Zazzà Lupè E dai ragazzi E' facilissimo Entrare in casa del Lodo E' facilissimo Rubare la cassaforte è facilissimo Ho già calcolato tutto Con il super ladro 5000 Venite qua che vi spiego tutto E lo facciamo Giustaci il colpo allora Lupè Ecco qua Noi arriviamo Perfett Tudo Questa è la mia Ero Perfett Grazie a tutti. 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 Ne sento l'odore, sento il puzzo di quel lupen. E' sicuro, ispettore? Sì, ne sono sicuro, ne sono certo. Ne sono certo. Eccolo! Eccolo là! Eccolo là! Inseguilo! Inseguilo! Eccolo! 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 Grazie a tutti. 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 E poi questa. Grazie a tutti. Vai. Grazie a tutti. Grazie a tutti. il quattro giugno il quattro giugno che il 25 è un chi? che fa il mio ornipi? bello il mio piano gigan! soci gamon gigan eh vai qua gamon gigan e che cazzo facci bussare il rimane gamon gigan che cazzo dai su vabbatti vabbè 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 adriano faccelare faccelare come sempre hai la mia spada lupen come sempre hai la mia spada ma dimmi chi ha commissionato il cuore aspetta Mauro ma che cazzo come sempre hai la mia spada lupen ma dimmi chi ha commissionato il colpo quel che era il troione di Margot prendiamo la cassaforte entriamo in macchina e andiamo via quindi io devo solo demolire mezza casa con la forza della mia spada ed io uccidere la cacciagione per focacciarsi in cima e io prenderò il malloppo e in tutto questo Margot prenderò anche io ma Margot prenderò la minchia ehehehe sarai mia no dai vediamo dai no su forza tagliate sta volta che non se ne può più ciao auguri il divano è comodo eh ciao 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 c'è una sotto la photo ti verrò nei sogni pietri Grazie.